E' un percorso che racconta la provincia di Belluno attraverso itinerari di cultura e sapori. Esce il 7 aprile nelle librerie e nelle edicole di tutta Italia la nuova guida pubblicata da Touring Club Slow Food nella collana itinerari. Un'iniziativa di marketing territoriale secondo me molto significativa perché il marchio Touring Club è un marchio che funziona, ha funzionato e può permetterci di crescere anche da questo punto di vista. Cinque capitoli di visita dei territori bellunesi, un gioiellino che rappresenta la nostra unicità e autenticità detto Alessandra Magagnin, amministratore unico di DMO, che con il Touring Slow Food, Coldiretti e Confagricoltura hanno collaborato alla realizzazione del volume. Abbiamo segnalato tutto, tra questi ci sono ad esempio anche i comuni certificati da Touring Club italiano all'interno del territorio bellunese che sono Roccapietore e Mel, sono borghi, cosiddetti bandiere arancione. Slow Food ha rappresentato i locali che condividono la filosofia dell'associazione, una soluzione di qualità rapportata ai valori. I valori di Slow Food sono quelli della sostenibilità, dell'impiego delle materie del territorio prodotte in maniera sostenibile e nel rispetto delle persone che li producono. Uno dei nostri cavalli di battaglia è il grande ruolo che ha l'agricoltura. 26 mila euro l'investimento per la guida che però presenta alcune criticità. Elaborato in periodo pre-pandemia il volume necessita già di una revisione sicuramente nei contenuti e nel logo oramai superato. Adesso faremo anche una valutazione se poterne fare una edizione nuova anche con il nuovo brand della provincia di Belluno, ma l'importante è lanciare nelle librerie e nelle edicoli italiane il messaggio che in provincia di Belluno si mangia bene, si dorme bene e ci sono dei paesaggi, città suggestive.